Aumentano i casi di contagio da Covid-19 in Toscana e la regione intanto si attrezza per affrontare una situazione ancora più critica. In un documento varato dalla Giunta sono stati simulati gli scenari e le linee guida per la gestione dei pazienti affetti da coronavirus nel breve e medio periodo. In Toscana ad oggi abbiamo registrato circa 200 casi di ricovero di pazienti Covid. La Lombardia, la regione più colpita dall'epidemia a 4.700 ricoverati. La regione toscana ha simulato la tenuta del sistema fino a 3.000 degenti in ospedale per il coronavirus, riorganizzando le strutture di degenza fra ospedali principalmente dedicati al Covid-19, dedicati al contagio solo in parte e ospedali senza pazienti Covid-19. L'assessore regionale alla salute Stefania Saccardi ha rivolto per video messaggio un ringraziamento a tutti coloro che si stanno impegnando per superare l'emergenza. Prima di tutto agli operatori sanitari a tutti i livelli, dal primo all'ultimo, che a vario titolo e in varie modalità ci danno una mano e stanno aiutando tutti, sapendo che sacrificano il loro riposo, sacrificano il loro tempo. Il nostro grazie però va anche a tutti coloro che con questi collaborano, a partire dai volontari e poi per arrivare a tutti coloro che ogni giorno decidono di rispettare le regole, sanno che solo rispettando le regole, solo facendo sacrifici possiamo dare un contributo non solo alla nostra salute ma alla salute degli altri. Oggi è il tempo della responsabilità e della solidarietà perché il modo con cui ognuno si comporta ha un riflesso rilevante su quello che accadrà alla comunità nella quale viviamo. L'assessore ha ricordato che, oltre all'enorme impegno profuso per la riorganizzazione delle strutture sanitarie, la regione sta provando a dare una mano anche agli anziani e alle persone più fragili e alle loro famiglie, coinvolgendo i comuni e il mondo del terzo settore.